Noi diamo un giudizio articolato ma nello stesso tempo vogliamo sottolineare il fatto che le manifestazioni che abbiamo fatto nel mese di aprile, maggio e giugno hanno consentito di aprire un tavolo negoziale che ha di fatto spostato l'85% della manovra a beneficio dei redditi medio-bassi. E questo è molto importante. La manovra non è una manovra espansiva come noi ci auguravamo perché secondo noi doveva essere fatto di più, soprattutto per lo sviluppo, per l'occupazione, però i soldi stanziati vanno nella direzione dei lavoratori e dei redditi che rappresentiamo. Una per tutte su 24 miliardi, circa 10 miliardi vanno alla riduzione del cuneo e questo è un beneficio dal punto di vista contributivo e fiscale per i lavoratori di circa 100 euro mensili. E questa è una cosa non di poco conto come lo sgravio per quanto riguarda i premi di risultato perché consentono una detassazione, quindi tutta una serie di questioni che l'azione che la CIS l'ha messo in campo ha consentito di raggiungere buoni risultati. Noi pensiamo che si debba fare ancora di più, ad esempio sul fronte delle pensioni. Noi abbiamo un giudizio molto critico rispetto alle questioni che il governo ha messo in cantiere e per questo noi pensiamo che la manifestazione che mettiamo in campo il 25 di novembre è una forma di pressione adeguata per tenere il tavolo e nello stesso tempo costringere il governo a cambiare posizione. C'è qualcosa che non va nella manovra economica elaborata dal governo, lacune vistose secondo l'opinione della CIS che per correggere la rotta propone misure destinate a rendere più equo e certo il futuro del paese. Per illustrare la posizione articolata della CIS sulla manovra economica del governo e le richieste di modifiche che saranno al centro della manifestazione nazionale della Confederazione sabato 25 novembre a Roma, a Bari si è riunito l'attivo dei delegati FIM CIS Bari. Oggi abbiamo ritenuto opportuno dare informazioni al nostro organismo e quindi al Consiglio Generale ha allargato tutti i direttivi di tutte le aziende sulla manovra della CIS e su quella che è la nostra posizione per quello che sta accadendo. Noi viviamo in un paese democratico, noi come organizzazione e come CIS pensiamo che sia utile dare informazioni e dire la nostra posizione del perché non abbiamo scioperato e del perché abbiamo ritenuto opportuno che la manifestazione del 25 novembre sia più utile rispetto allo scioperare. All'attivo sono intervenuti anche Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CIS Bari e Gianfranco Gasbarro, segretario generale della FIM CIS Puglia. La CIS innanzitutto ha un'esigenza di parlare con i delegati e le delegati delle aziende del territorio e questo sta avvenendo in tutta Italia. Oggi lo stiamo facendo con i delegati e i delegati della FIM CIS, quindi delle aziende della metalmeccanica della nostra provincia. Abbiamo necessità di fare insieme un'analisi di quelli che sono i punti cardine della manovra di bilancio che è in discussione in queste settimane nelle aule di Parlamento. È una manovra che presenta molte luci e alcune ombre ed è per questo che abbiamo deciso di comunque attivare una mobilitazione sia su livelli territoriali attraverso delle forme di assemblea che poi confluiranno in una manifestazione nazionale. Non è uno sciopero, è una manifestazione di sabato perché riteniamo che sia inopportuno far perdere ulteriori soldi ai lavoratori. È necessario quindi determinare un cambiamento nell'iter parlamentare attraverso una pressione sui gruppi parlamentari, su tutto l'iter che possa dare dei correttivi a quei punti che noi riteniamo necessitanti di correzioni a partire da quelli che riguardano soprattutto le pensioni. Oggi chiaramente oltre ad affrontare i problemi che riguardano le aziende sul settore, su tutto il territorio, viviamo una situazione difficile perché dobbiamo comunque superare la questione della transizione. Siamo dietro a cogliere tutte le opportunità possibili. Vediamo ancora la politica lenta sull'intervento e l'utilizzo dei fondi del PNRR che diventano fondamentali per fare questo percorso di transizione dove questa transizione sia ecologica, economica e digitale sarà l'elemento di prospettiva del futuro che stabilirà anche le opportunità sul territorio. Quando invece ci sono poi situazioni particolari che sono appunto quelle legate al settore auto, tutta la compiuntura di scalare auto, vedi Bosch, vedi Magra, vedi Magneti Marelli che devono appunto, come dicevo prima, affrontare questa nuova situazione anche utilizzando al meglio i fondi per la formazione per trasformare i lavoratori sulle nuove tecnologie. A fronte di questo poi abbiamo le situazioni ormai incancrenite come quelle dell'ILVA che non è possibile continuare avanti così con un governo che non dà delle risposte precise su qual è il progetto per l'ILVA e che non possiamo più aspettare perché lo stabilimento ormai è in decadimento, non ci sono investimenti sulle prospettive future di quello stabilimento, non vediamo interventi sulla sicurezza sul lavoro che sono un elemento fondamentale, parliamo tanto di sicurezza sul lavoro ma poi alla fine mancano gli elementi fondamentali per gli interventi necessari là dove ci sono le aziende che sono ancora attivamente produttive.